Bella ragazzi, qua è Ghiotto, Feyenoord, Roma 1-0 e questo è il verdetto dell'andata di quarti di finale di Europa League, tra poco in campo Fiorentina in conference, con Lecpozzana nella Juve in casa contro lo Sporting Lisbona, quindi sfide probanti, c'è stata anche in contemporanea Ghent West Ham 1-1, gol di Ings per gli Ammers e Kuypers per i Belgi, quindi fatale la trasferta a Rotterdam anche ai giallorossi, fu fatale anche a noi, perdemo con lo stesso risultato, 1-0, gol del messicano Imenez, mentre oggi a decidere il match è il classe 99, come me, Wiffer su grandissimo assist di Idrissi, dormita di Zalessis, secondo me anche Rui Patricio poteva fare di più, o comunque conferma secondo me un po' la sua decadenza inesorabile rispetto anche all'anno scorso, poi vabbè sì, comunque lui non è nuovo, nonostante per me sia un buon portiere, diciamo ha unitato qualche gaff, qua non è un errore, sicuramente più l'errore di Zalessis, che è troppo passivo su Idrissi, che invece di andare sul destro, sterza sul sinistro, se ne va verso la linea di fonde, poi penso che non sia un pallone casuale, perché vede fuori dall'aria Wiffer, che calce in maniera anche sporca, masticata, calciando la palla sul terreno di gioco, però poi anche forse un po' coperto, vede sbucare la palla troppo tardi, quindi il portiere Lusitano non arriva sulla sfera, che termina in rete, 1-0 il minuto 53, a conferma dei 10 minuti di entrata, poi da rientro agli spogliatori della Roma, in cui c'è stata molta disattenzione, troppa passività, per il resto partita equilibrata, però comunque sempre diretta, orchestrata, manovrata dai giocatori bianco-rossi olandesi, che secondo me comunque sono più forti questa Roma, e la squadra di Murino non può essere questa, al di là poi della travesta di Bannets, del rigore di Pellegrini, di cui adesso vi parlerò, però troppo passivi, e il ritorno ovviamente è tutto aperto, però questa squadra quando deve attaccare, quando deve fare la partita, rimontare, comunque provare a ribaltare un risultato, secondo me va in difficoltà. La Roma è una squadra di attesa, lo dice la storia in questi ultimi due anni, sotto la gestione dell'ex mister di Porto e Inter, quindi diciamo per il ritorno la vedo ardua l'impresa, però sicuramente si potrà fare, poi diciamo che il Feyenoord, anche memore della partita dell'Olimpico contro di noi, sicuramente una squadra che dà il meglio di sé in casa, dove l'ambiente è molto caldo, oggi tra l'altro un sole fastidiosissimo, perché in Olanda poi tramonta molto più tardi, il primo tempo veramente sembrava come su FIFA quando giocavi a San Sira alle 12.30, non so se vi avete presente, ma credo proprio di sì, perché sicuramente siete appassionati anche voi del gioco più famoso del mondo del football. Comunque, allora, primo tempo, riavolgendo il nastro in cui c'è stato l'episodio sicuramente clou del rigore sbagliato Pellegrini, prima l'uscita di Dybala per infortunio, problema all'aduttore per l'argentino, che non è nuovo comunque a qualche acciaco, credo non sia nulla di grave, ovviamente senza Dybala secondo me al ritorno alla Roma non ha grandi possibilità, perché è sempre un po' la luce in fondo al tunnel dei giallorossi, che nonostante magari non creino tanto, attacchino poco, però con un Ebram spuntato, Belotti che si impegna ma continua a non segnare, Dybala è quello che ti può risolvere la mattassa anche nei momenti difficili. È entrato il Sharabi che non è entrato male, perché poco dopo l'entrata ha sfiorato anche il gol, poi ha avuto un'altra occasione nel secondo tempo, lì ha allargato troppo il piattone, però sicuramente Dybala è mancato ai giallorossi, ma credo che la partita sarebbe andata lo stesso così, perché comunque Dybala è bravo sì, però deve essere supportato, quindi se la squadra non attacca lui ovviamente fa fatica di incidere negli ultimi 20 metri, il rigore sbagliato a Pellegrini per fallo di mano dello stesso Wiffer da calcio d'angolo, un rigore regalato nel senso che ovviamente era netto, però un'ingenuità clamorosa del centrocampista olandese, e Pellegrini signori. Allora per me Pellegrini è un grande giocatore, io comunque sono un fan, un giocatore che sa fare un po' tutto, quest'anno sicuramente non è brillante, però non sa calciare i rigori. È vero che, non so, poteva tirarlo Ebra, ma che comunque non è anche lui un rigorista, e poi Ebra, ma anche oggi è un giocatore imbarazzante, un giocatore nullo, che fa fatica anche a fare il parto da solo, come faceva l'anno scorso, sicuramente ribadisco, il gioco passivo difensivo della Roma non lo aiuta, però Pellegrini calcia malissimo, cioè secondo me non può esistere calciare così, perché un grande giocatore della carattura di Pellegrini, anche se non sei un rigorista, magari top, perché io ricordo quella nefasta partita, Roma-Juve 3-4, rimonta dei bianconeri, avviata proprio da poi dal rigore sbagliato di Pellegrini, cioè tu lo devi guardare il portiere, invece lui abbassa la testa come i giocatori mediocri, calcia con la paura perché l'angola troppo, prende il palo, e lì non è sfortuna, come hanno detto Borghi e Tiribocchi. Si può parlare di sfortuna, ma poi è sempre relativo nel calcio, sull'occasione poi dopo l'1-0 di Wiffer da calcio d'ango, perché poi la Roma è solo pericolosa dai calci piazzati, il colpo di testa di Roger Ibanez, che per me ha fatto una discreta partita, la traversa e poi il salvataggio sulla linea proprio di Drissi, quindi decisivo sia in fase offensiva sia in quella difensiva, poi con la gola ai technology, in effetti la palla sembrava molto più dentro di quello che poi era, però alla fine il 65% della sfera era all'interno della porta, però poi il grosso casino non ce ne sono state, il Fener poi si è un po' abbassato, però è sempre comunque ripartito, ha avuto ancora delle occasioni per esempio con Koccu, che è un giocatore pazzesco, già l'avevo notato con la Lazio contro di noi, giocatore che se ne parla già da un paio d'anni, però quest'anno veramente si sta confermando come uno dei migliori prospetti, ma è già una realtà dei centrocampisti, ma a livello non solo del campionato olandese, che sta dominando la squadra di Arnès Lott, ma proprio a livello europeo. Quindi la Roma esce sconfitta dal Dekuip e ribadisco, per caratteristiche prevedo comunque un ritorno difficile per i giallorossi, però sicuramente il risultato lascia spazio a ogni esito e sicuramente poi anche il cattino infuocato dell'Olimpico inciderà, però il Feyenoord lo vedo bene, io ne so qualcosa, perché comunque nel girone noi è vero che nella doppia sfida siamo usciti i vincitori, poi abbiamo vinto 4-2 e perso 1-0 là, però alla fine la squadra di Slott è arrivata prima, quindi un motivo ci sarà. Signori, like al video, iscrivetevi, seguitemi sugli altri social, Instagram e TikTok in descrizione. Bella, ciao!